Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Andrea Romano che mi chiede di parlare del film di John Huston scritto da Arthur Miller nel 1961 è Gli Spostati con Cary Grant, Montgomery Clift e la grandissima Marilyn Monroe appunto nel suo ultimo ruolo così come per Cary Grant e Clift morì pochi anni dopo un film cosiddetto maledetto appunto per l'appunto girato da John Huston in stato di grazia un film meraviglioso in un certo tipo di cambiamento di era con questi appunto cowboy ex tali che vivono appunto della loro nostalgia, dei loro rimpianti un film notevole in questo bianco e nero di Russell Matti che il nostro John Huston utilizza alla stragrande sia per le riprese appunto dei rodeo, delle caccia ai cavalli sia appunto dove ci sono i momenti distanti sia che nelle scene diciamo così più sentimentali dove il film va in un certo senso a parare perché la storia è quella appunto di Marilyn Monroe che interpreta Rosin che è una bellissima donna abbastanza ingenua e che praticamente è appena divorziata quindi grazia un'amica conoscendo tre persone, tre uomini molto particolari appunto Gay interpretato da Clark Gable che è un ex cowboy poi il campione di rodeo Pierce e l'aviatore meccanico Guido e tutti e tre chiaramente si innamorano subito della nostra Marilyn Monroe che però accetta in realtà il corteggiamento del solo Gay e poi questi incominciano a voler fare appunto diciamo così la cattura dei cavalli selvaggi, cavalli a giro per fare mangime per cani e di rivene fuori tutto quello che è insomma i veri caratteri di queste persone incominciano a venire fuori insomma le disarmonie, le nostalgie, le lotte interne e soprattutto dei caratteri appunto di personaggi diciamo così outsider in un certo senso che stanno subendo il cambiamento di un'epoca dietro all'altra in tutto questo naturalmente la storia sentimentale poi diventa padrona e il personaggio di Marilyn Monroe diventa veramente spettacolare uno dei personaggi più belli visti nella storia del cinema di quel tipo migliorare sicuramente il lavoro appunto della Monroe che fa in realtà se stessa attraverso però una voglia di cambiare anche il suo modo, di recitare il suo modo di fare attraverso delle riprese una più bella dell'altra di John Huston sia nelle parti appunto diciamo più d'azione in un certo senso che il nostro car grebo sembra abbia voluto fare quasi tutto da solo anche se era già non stava molto bene per un film e ripeto di quelli che comunque lasciano assolutamente il segno non solo perché il canto del cigno come ho detto di tre attori Clark Gable, Marilyn Monroe in un certo senso che è un mongore di Mick Lift che morirà di lì a poco e Clark Gable morì prima del proprio dopo le riprese proprio per infarto per un film che però si muove proprio attraverso una voglia di raccontare assolutamente enorme una sceneggiatura quella di Arthur Miller fantastica con dei dialoghi uno più bello dell'altro e con una storia che diventa sempre più in un certo senso crudele che interseca momenti di dramma sentimentale pure a momenti in cui il western anche a livello proprio estetico la fata del padrone con queste riprese gigantesche e questi piccoli nostri protagonisti in fondo pure con quei grandissimi primi piano quasi in modello flu per un film ripeto che è un classico, un classico storico non solo appunto perché è uno dei film maledetti visto che ripeto è morto praticamente tutto il cast poco dopo ma proprio perché è uno di quei classici film che in un certo senso hanno portato di fronte a tutti in realtà la forza di Marilyn Monroe che qui era veramente grandissima a recitare e mostrava a tutti un'altra volta lo splendore della messa in scena di un John Huston che sceglie un bianco e nero come ho detto fantastico con un montaggio spettacolare per un film assolutamente perfetto sotto il punto di vista emozionale proprio riesce a farci entrare dentro la testa di ogni protagonista che è psicologicamente veramente ben ben delineato con quel finale meraviglioso appunto in un certo senso di ritorno a casa per un film che riesce a raccontare appunto questo personaggio anche femminile che cambia cambia attraverso appunto anche degli screzi che questi si fanno fra di loro per cercare di mettersi contro e cercare di avere diciamo la bella di turno che però assolutamente è tutto tranne che è stupida in un certo senso ingenua e questa ingenuità la andrà a perdere piano piano per un film che fu un grande casino perché le riprese dovevano iniziare alle 9 smettevano alle 18 invece Marilyn Monroe arrivava sempre all'11 decidono di spostare quindi le riprese tutti avrebbero a che fare in mal modo tranne John Huston che la adorava con la nostra Monroe perché tutti insomma pensavano fosse una diva poco capace invece nel film dimostra tutt'altro perché il film è veramente bellissimo riesce a tenereci attaccati ripeto alla sceneggiatura del marito all'epoca della nostra Monroe è perfetta proprio ecco uscita addosso a questi attori uno più bravo dell'altro è John Huston dirige come fa Don John Huston ovvero da Dio come ho detto grandissima l'idea del montaggio di Giorgio Tommasini che riesce a fare questi campi lurghi questi movimenti sull'asse quest'idea appunto di passaggio da un racconto all'altro in maniera totale attraverso un film che è comunque bellissimo proprio come tale è un film meraviglioso sotto il punto di vista visivo prima di tutto ripeto che sotto il punto di vista narrativo uno dei classici esempi di grande film praticamente andato a scomparire che ha la nomina solo per il nome appunto per essere l'ultimo film forse di Carculebole e della nostra Maria Rimorro ma che in realtà è proprio un bellissimo film un elegia appunto della fine di un certo tipo di America ripeto che si trasforma in altro e che nel mezzo ha appunto questi personaggi che sono tutti degli outsider sono tutti decaduti, devastati da un certo tipo di vita in un certo senso e tutto viene portato su dalla grande musica che compone uno splendido Alex North un post-Western se vogliamo così chiamarlo di quelli che insomma rimangono nella testa di chiunque una storia sentimentale fantastica è un'idea appunto anche diciamo così di un certo tipo di America che viene un'altra volta spogliata e rivestita da un John Huston in forma smagliante il film degli spostati del 1961 è qua sotto donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccia Giro per l'Italia ripeto gli spostati per me è un filmone un filmone come tutta la filmografia di John Huston è tutto da vedere perché è un regista veramente incredibile e in questo film riesce a tirare su alla stragrande tutti gli attori a dirigere in maniera spettacolare a riuscire a avere un'inquadratura più bella dell'altra e soprattutto anche una sceneggiatura quella di Miller che è roba veramente dell'altro mondo